Grazie per la vostra partecipazione, genitori, alunni e soprattutto l'amministrazione comunale. La lettera a Babbo Natale ci ha dato l'opportunità di vedere il Natale da un punto di vista un pochino più profondo, di fare qualche pensiero, di dedicare qualche pensiero a chi era un po' più in difficoltà. Grazie ancora e speriamo che il prossimo anno si possa ripetere l'iniziativa perché è una bella opportunità. Partiamo dall'elaborato numero 4 che appartiene alla scuola dell'infanzia di Filo. Poi abbiamo la scuola dell'infanzia di Ispitala Monacale, l'elaborato numero 6. Bravissimi! Ecco l'elaborato numero 9, la classe terza della scuola primaria di San Biagio. Bravissimi! L'elaborato numero 14, la scuola secondaria di primo grado di Argenta, classe seconda C. Poi abbiamo l'elaborato della classe terza A, sempre dalla scuola secondaria di primo grado di Argenta, poi abbiamo la scuola secondaria di primo grado di Santa Maria Codifiume, classe prima, classe prima F di Santa Maria Codifiume, classe seconda F di Santa Maria Codifiume. Buongiorno un pochino, eh! Noi consigliamo premio alla scuola di infanzia di Longastrino, sezione B. Grazie. Alla sezione A della scuola di infanzia di Longastrino. Abbiamo la scuola primaria di Argenta, classe quinta C. Eccola quinta C. E' la classe prima A della scuola secondaria di primo grado. Un premio di 150 euro di buono spesa per la classe che ha partecipato al concorso. Per la scuola di infanzia vince con l'elaborato numero 1 la scuola dell'infanzia di Longastrino, sezione A. Il premio di categoria è stato assegnato all'elaborato numero 7 appartenente alla scuola primaria di Argenta, classe quinta C. E' solo due, e' solo due, e' solo due. E infine, ultimo dei premio della giornata, premiamo la classe prima A della scuola secondaria di primo grado di Argenta, che ha partecipato con l'elaborato numero 12 che ha vinto per la sezione scuole secondarie di primo grado. Di questo sono molto felice. Grazie a tutti.